Bella a tutti ragazzi! Benvenuti in questo nuovo video! Vi sono il Giorgio 01 e siamo su una nuova serie di FIFA 16! Bene! La nostra rosa sarà questa! Per iniziare! Molto semplice! Poi meno meno faremo tante cose! Allora! Possiamo iniziare subito con una partita! Giammettere simbolo! Facciamo un torneo, se si può fare! Vabbè! Facciamo un torneo, se si può fare! Nella nostra squadra, loro sono sempre pronti! Maiette facciamo così! I redditi carenze! Bene! La cosa qua è un L! Comunque, se volete vedere il tutorial su questo gioco, ditemelo qua sotto nei commenti! Siamo giunti agli ottavi di finale della coppa! Ovviamente piove! Vabbè, talonsi! La cosa di prossimi campioni è ovviamente, tutti si credono! E' un C squadra, il calante e tutti, tutte, poste, 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 poste! Non ci credo, ti ho! Non è, lo potremmo fare un gol subito! Vabbè, abbiamo un secondo tentativo, attenzione! Comunque, scrivetelo anche qua sotto nei commenti, se volete serie con altri, con altri, ok? Con altri, scrivete cosa trovo! Bene! Ora ho già subito una zero! Credo che questo torneo sia raggiunto! Poi io ho giocato un po' offline, perché, cos'è meno, mi sono fatto un bel oro, oro raro, quindi, molto buono! Che succede? Ah, ok, in fuorigioco, in fuorigioco, però, molto bene! Vai, vai, vai! Oh, come sta smarca! Oh, che gol! Che gol! Che gol! Comunque, vi ringrazio per i 26 punti! Vai, 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 avanti, 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 finita così a casa e poi tira! Ed è il 3, a 0! E siamo in 12 minuti, quindi, molto, molto buono! Molto! Allora, siamo a 3 minuti, ancora il video può continuare! Dai! Allora, per questo video ci saranno diversi parti, perché una partita dura molto, anzi, tanto, su 10 minuti circa. E fino ai 10 minuti non ci posso arrivare, quindi ci saranno diverse parti. Allora... Scrivetevi un po' sotto nei commenti, anche se parlo dolpopiano, perché secondo me parlo piano. Non sentirete niente, secondo me. Ma vabbè. Ora qua siamo pronti per metterla in mezzo. Qua di testa niente. Di testa niente. Di nuovo... Di nuovo... Di nuovo... Però da il testa... Attenzione! Attenzione! Che culo che andiamo in mezzo. Che culo. Mi sa troppo lungo, mi sa troppo lungo, mi sa troppo lungo, e mi fa testa niente. Eh, va bene. Iva, 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 Iva. Che culo. Siamo a 5 minuti, ancora un minuto. Comunque ditemi qua sotto nei commenti se il rischio del gusto mi sia piaciuto. E la cosa di lo speciale 25 iscritti lo farò tipo quando avrò 30 iscritti sicuro, 100%. Perché non lo so perché, ma troppo difficile. Troppo. Però vi riderete, quindi non credo che sia un grosso problema. C'è il recupero del pallone. Ok ragazzi, scusatemi, era mio papà, che è venuto da casa. Ok, possiamo incominciare. Comunque, un'altra cosa che vi volevo dire nel frattempo, era che a Minecraft, visto che mi sono aggiornato, il cervello soprattutto e anche Minecraft, anche tutto, visto che me le sono aggiornate queste cose, ho molte più cose su Minecraft, tipo ora ho gli offer, e altre cose che vedrete se tu impari. Bene. Quindi credo che il prossimo video sarà Rischia il gusto parte 2 e il terzo video sarà Tu impari, secondo me. Poi non lo so se cambio. Ma che? Ma mi ha fatto una scivolata e mi ha respitto. Ok. La prendiamo. La? La? Che culo. La? Comunque scusate per il taglio. Ma Problemi tecnici Val gol E 4 a 0 Vai No raga no No raga no Che culo Abbiamo dei difensori No 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 Che culo L'ho messo in pausa Che culo Ok si riparte Attenzione In aria In aria In aria Lunghissimo Di testa E va qua Ok bene ragazzi Spero che questo video vi è piaciuto E' durato già 8 minuti Quindi molto buono come tempo Spero che questo video vi sia piaciuto E noi ci vediamo al prossimo Bella